24. Che hanno fatto le religioni? Cerchio K attraverso Marco a cura di VB domanda Che cosa significa Apocalisse? Guida psichica La Apocalisse significa fine ma anche principio o in altre parole Il tutto è L'opera che contiene in sé la spiegazione del tutto Di come il tutto è composto Di come il tutto non solo si manifesta Ma di cosa lo manifesta È il di svelarsi dell'antico Uno attraverso il Cristo Ma è scritta in simbolismo occulto Perché Giovanni presse con sé Maria Dovete cominciare ad affinare certe facoltà spirituali Altrimenti dette chakra Perché solo affinandole Potremmo andare avanti in questo genere di conversazioni Sempre che naturalmente vi interessino Infatti Bisognerà che siate anche voi a disvelare a voi stessi La realtà e la profondità di certi simbolismi occulti Voi direte Perché gli antichi usavano il simbolo? Il simbolo era qualcosa che rendeva per l'epoca tutto più semplice Perché non essendovi una grande cultura a livello filosofico Se così possiamo dire A livello generale Si preferiva ricorrere a dei disegni veri e propri Per simbolizzare certe verità Ecco qua figli Il perché si usasse il simbolo Ed in questo discorso va collegato per esempio Il libro di Thoth Di cui parleremo successivamente Perché abbiamo iniziato il nostro discorso dall'Apocalisse Interrompendo la Genesi Perché solo disvelandovi l'Apocalisse Possiamo comprendere la vera Genesi e tutto il resto Quindi non è una perdita di tempo Qualcosa che tende a trascurare ciò che prima abbiamo fatto Al contrario lo arricchisce Disvelandovi l'equazione Di cui Giovanni ci dà la risoluzione figli E ce la dà molto chiaramente Per chi sa il simbolismo occulto Si può comprendere il resto Sotto la luce di questa equazione Perché vedrete che nella Genesi Ritroveremo qualcosa di simile Dicevo prima che l'Apocalisse è un'esperienza estatica Ma al contrario di tutte le esperienze estatiche Giovanni è riuscito ad estrinsecarla Sotto forma di equazione matematica Di equazione letterale Allora è più oggettiva rispetto alle esperienze estatiche Di molti mistici Che hanno fatto le religioni Ed abbiamo avuto la fortuna Che tramite gli esseni ed altri Questo libro non sia stato manomesso o alterato Se non lievissimamente Contrariamente a tutto il resto della Bibbia Domanda Forse la ragione è semplice Perché nessuno poteva interpretarne il senso Perciò non c'era nessun motivo per alterarlo Guida psichica Certamente Però per esempio Nell'Evangelo di Giovanni Questo è avvenuto Pure se non se ne comprendeva il senso Perché vi erano molte cose occulte Ebbene è avvenuto Invece Nell'Apocalisse Questo non è avvenuto Perché si è riusciti ad ovviare Attraverso molte cose difficili e complesse Che non sto qui a narrarvi Per evitare che questa contaminazione avvenisse